ho notato che sulla canzone ci sono qualche tra virgolette polemiche polemiche di chi veramente ha inciso questa canzone ma io volevo soltanto dire una cosa non ho assolutamente clonato coverizzato un vostro brano ho semplicemente fatto un semplicissimo tic toc per scherzare piano e voce e l'ho cantata diversamente ho fatto un altro motivo quindi automaticamente è una canzone che io ho preso spunta alzando le mani da Lino Tozzi perché Lino Tozzi tiene anche lui una canzone scritta da Alberto Selli ma che poi alla fine è stata anche incisa da Gianni Celeste e Massimo prima ancora di Lino Tozzi quindi tra parentesi ci sono tantissime situazioni che poi vogliono uscire tutte quante a gallo ora che la sto incidendo io ma io non sto facendo nessuna cover assolutamente ho preso soltanto spunta dal tutto a tattà da Lino Tozzi perché ho seguito lui tantissimi anni sono un suo ammiratore e per lo più lo direi sì sto facendo una cover non è assolutamente così una canzone inedita scritta da Rolando Riera una canzone che ha preso spunta proprio dal da quel tic toc che abbiamo fatto che è stato molto scherzoso molto bello e divertente da canticchiare e l'abbiamo incisa però non è assolutamente una cover quella di Lino Tozzi dice delle parole quella di Lino Tozzi dice a una velocità e un altro motivo e la mia è assolutamente un'altra canzone un altro motivo e un'altra velocità c'è soltanto in diciamo il tut tuta tattà è come se io dico mille verra affrontamansi mettoni colombo favoris mille verra affrontamansi in una frase ci può stare no sono parole belle che si possono incitere nei brani però non è una canzone cover è una canzone inedita quindi aspettate l'uscita di questo brano perché ragazzi credetemi sarà un successo enorme una canzone bellissima una canzone che a quanto vedo siamo quasi a 40.000 tik tok già fatti su sul mio sulla mia voce quindi immaginate quante persone hanno fatta quante persone la stanno facendo ancora sarà un pieno successo una canzone che l'ha ascoltata toni l'hanno ascoltata tantissimi dei miei colleghi dice ma che co ma che combinato ne è uscita fuori un qualcosa di particolare quindi non vedo l'ora veramente ragazzi di farvela ascoltare per intera è bellissima è una canzone che cantiamo tutta tutta l'italia non voglio dire tutto il mondo perché non siamo internazionale però la possiamo cantare tutti quanti è semplicissima da fare quando dove che passa stu coro mi fa sempre tutta tutta è carina come canzone ti fa divertire ti fa ballare ti fa ti fa ti strappa un sorriso quindi non pensate alle polemiche non pensate a nulla oggi la vita è questa qua godetevi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti